ed è The King Jeremia, vincitore l'ultima volta, 1.400 oggi, sono 200 metri in più, vediamo tutto pronto, partiti, cavalli della Tris, quartè e quintè di giornata parte in leggero controtempo proiettile, il più veloce è Hardway Winner con ai suoi fianchi The King Jeremia questi due che nel primo tratto di gara hanno dato vita a un bel parziale, alla fine Hardway Winner lascia strada a The King Jeremia che è il nuovo leader della competizione, in terza troviamo Funny Version con al suo esterno Assalto poi la terza linea è completata da Korgos che ha all'interno Sliding Woman ed ancora troviamo la giuba bianca di Signora Grazia con al suo esterno Lori di Tony, alle loro spalle anche Blu d'Incanto poi Philly Win ed ancora Lucirex Tagore, completare il quadro dei partecipanti quando siamo già a metà curva, sempre in vantaggio The King Jeremia nei confronti di Hardway Winner in terza all'interno c'è Funny Version a precedere Assalto ed ancora Sliding Woman con Korgos al suo esterno si avvicina anche Lori di Tony che si trascina a sua volta Blu d'Incanto, di dentro c'è Signora Grazia e poi tutto il resto del gruppo siamo già addirittura d'arrivo con un bel ritmo, The King Jeremia è attaccato a questo punto da Philly Win che si presenta sui fianchi anche Hardway Winner è della contesa, all'interno ci va Sliding Woman, all'esterno di tutti trova anche il Varco Korgos che si trascina a Lori di Tony, ancora più all'esterno anche Blu d'Incanto, c'è un ventaglione fatto di 10 cavalli almeno con Korgos che è passato in vantaggio, al suo esterno si presenta la minaccia di Lori di Tony, ancora più all'esterno anche Blu d'Incanto tre cavalli a lottare con Korgos che ha respinto i primi attacchi, ci riprova Blu d'Incanto insieme a Lori di Tony con Korgos contro Blu d'Incanto, Blu d'Incanto che passa nel tratto conclusivo, Korgos ha provato a resistere ma i due sono veramente molto vicini bellissimo finale, con tre cavalli protagonisti, potrebbe essere stata ancora una volta di Blu d'Incanto vediamo lo stretto che cosa ci dice, dentro Korgos ha venduto carissimo la pelle, vediamo un po' il tempo di galoppo a chi è a favore secondo mio punto d'osservazione Blu d'Incanto Blu d'Incanto che dovrebbe aver messo qualcosina davanti rispetto a Korgos bisogna attendere ovviamente il verdetto del giudice d'arrivo, quindi in maniera del tutto provvisoria otto al primo, sette al secondo, sei al terzo c'è fotografia anche per il quarto e quinto, credo ancora Sliding Woman rispetto al dodici Lucirex ma anche in questo caso bisogna attendere il verdetto del giudice d'arrivo comunque bella fotografia tra Samuele Diana e Dario Margi qualora avesse vinto Korgos sarebbe la vittoria numero tre per Dario in giornata per Samuele Diana sarebbe la prima grazie a tutti grazie a tutti